Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. De. Concedi, Dio Onnipotente. Che tuoi fedeli, i quali si rallegrano del nome e della protezione della Santissima Vergine Maria. Sieno liberati, per la sua amorevole intercessione. Da tutti i mali in terra. E meritino di giungere ai gaudi eterni nel cielo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.